Perché è ritornata in Italia durante tutto questo tempo e che qual è la sua aspirazione adesso? Lasciando da parte i soldi, piazzola, la causa, eccetera. Parliamo di lei, di Gina, di questo grande amore che lei ci ha raccontato stasera. Gina mi amava a me molto più dello che io ho arrivato a amarla a lei, amandola tanto. Io, come l'ho detto all'inizio, io non ho fermato mai ad andare a Italia. È stato andando in Italia tutti questi 12 anni, sicuramente il mio italiano è molto imperfetto, non mi ha fatto capire. No, benissimo. Io veramente non voglio difendere Gina perché Gina non è stata responsabile di tutto lo che ha fatto e detto durante questi anni. Per questo è stata incapacitata dalla giustizia italiana. Gina vera era la Gina da 2010 indietro. Io lo che voglio chiedere agli admiratori di Gina è che Gina non era una persona che avrebbe sfrattato al suo figlio e al suo nipote ancora minore in casa sua.